bene a questo punto dopo che ha finito di calcolare questo quello che ho ottenuto dopo un po' ricordatevi che qui prima di calcolare di mettere reset to initial state mettere anche yes make initial state e in automatico verrà creata qui hanno creati qui due file dentro la cartella initial state di progetto unit state e bdb una volta che l'avrà creato clicchiamo su possiamo togliere anche l'occhetto clicchiamo su reset to initial state e questo è lo stato iniziale dal quale partiremo per fare la nostra simulazione ok nella simulazione facciamo un piccolo recap abbiamo qui sulla speed che è leggermente diverso parte da 0.5 poi al frame 24 0.75 0.2 e 0.5 lo stesso anche per secondo 0.5 0.25 1 addirittura e 0.5 e il terzo 0.75 1.25 e 0.75 abbiamo delle variazioni differenti delle variazioni per esempio il terzo la variazione 0.15 il secondo 0.2 e il primo 0.25 la posizione ora io li ho nascosti per vederli ovviamente poi la mesh mi va a restituire questi per quello magari conviene utilizzare già delle forme che sono comprese o comunque cercare di nascondere di metterli più vicino possibile alla superficie vediamo che questa qui ho spostato questo emettitore qui questi sono qui e ho invece aggiunto anche parecchie rocce per dare un percorso un pochino più realistico ok ho degli schizzi qua su in cima ma sostanzialmente non non mi interessa se voglio evitare di avere schizzi qua su in cima posso aggiungere un kill volume e mi vado a creare una seiferia posso averlo anche sferico in questo caso sferico forse è anche se poi dopo questi magari non vengono interessati dalla mesh cioè la mesh non va a creare assolutamente nessuna interazione a qualsiasi in cima quindi poi possiamo anche anche lasciarli aspetto importante magari questo kill lo mettiamo soltanto alla domain questo solo per sicurezza e a questo punto ovviamente mettiamo invertito inverso così sarà qui valido qui tutto quello che va dentro sarà ucciso ok andiamo a nascondere salviamo e a questo punto con una risoluzione di 0.025 il command line non va a utilizzare l'inizio state quindi dobbiamo assolutamente in questo caso andare a disabilitare il command line e calcolarlo senza il command line quindi blocchiamo la viewport salvataggio sarà più lungo il calcolo diciamo che però noi magari ci interessano solo 96 frame sarebbero 4 secondi di animazione quando l'ultima ce ne basterebbero anche 3 che 75 non è che anche 72 anche se non è molto importante ok lanciamo la simulazione salviamo insieme insieme